Si è parlato anche del futuro nel corso del bilancio del primo anno dell'amministrazione Pardini a Lucca, tra gli argomenti affrontati anche la ex manifattura. L'assessore Buchignani ha annunciato che sta per essere definita la nuova gara di appalto per far ripartire i lavori della parte nord dell'immobile, dove è prevista la nuova sede dell'Università del Turismo, attualmente sistemata a tre cancelli. Il nostro obiettivo è quello di realizzare entro fine 2025, inizio 2026, la parte che interessa a Campus, perché dobbiamo, ci siamo impegnati per questo, c'è una convenzione, c'è un contratto tra noi e Campus che prevede che Campus si doveva già essere spostato all'interno dei locali della ex manifattura. Per il resto si dovrà fare i conti anche con i soldi rimasti a disposizione del vecchio Pius e qualcosa delle intenzioni progettuali originarie salterà. Di sicuro si farà il nuovo spazio per il Museo del Fumetto e si farà anche il trasferimento di gran parte degli uffici comunali. Confermata nel breve termine anche la riapertura del piano terra del parcheggio interno della manifattura con il recupero di 60 posti auto. Per il resto, come già detto dal sindaco Pardini, lunedì sera a Noi TV si va avanti col progetto del parcheggio interrato fuori porta Santa Maria e sul futuro mercato del Carmine il comune si sta adoperando per offrire soluzioni agli attuali esercenti. Rimane irrisolto il progetto Luca Sicura, cioè il rafforzamento dell'attività estiva della Polizia Municipale, annunciato dal comune ma non ancora entrato in attività per questioni di personale a disposizione.